Non abbiamo nominato le due ex della partita che sono Gaia Gorini e Giuditta Nicolodi, entrambe ex della Magnolia. Ora è subito Pan con il pallone in mano, tra l'altro capitano della formazione lagunare, Cugliar si prende un tiro dalla media e lo mette a segno, primi due punti rischiando anche Marecchio. Ora Dedic in lay-up, si prende una stoppata monumentale, c'è l'aiuto difensivo di Cugliar, ancora Mistinova, altro lay-up, altra stoppata. Quindi il gioco che adesso diventa ancora piacevole per Venezia, che poi trova anche due punti, va sul cubo e il pubblico gioisce. Tatto, Bellassi, seccanestro per Cugliar, Cugliar fa un passaggio astronomico per Shepard. C'è un 3 contro 1, Chignonez fa la schiacciata per Giacchetti e sono due punti. Gioco perimetrale della Magnolia, l'aiuto da parte di Cugliar, il tiro da 3 da parte di Chignonez. Ancora Morrison, 6 secondi, 5 secondi, Morrison, Morrison, Morrison! Q-Pai, ancora il passaggio dietro la schiena, fenomenale da parte di Berkani. Così in mezzo secondo è proprio Berkani. Intanto grandissimo scarico di Morrison! Si corre dall'altra parte con Berkani, altro passaggio per Cugliar, che ha tutto libero, lo spazio per passare. E' vero, un passaggio forse di troppo, ora Mistinova da 3, tiro di Mistinova! Poi Shepard chiede il passaggio a Fassina, lo trova, ancora gioca a 2, Shepard, palla giù per Cugliar, è qui. Fanno tutto bene le ragazze veneziane. Pallone giù per Mistinova, non c'è il contatto, però c'è uno scarico. Giù per Chignonez, uno contro uno con Shepard, ancora Chignonez, gioca di potenza! Con il pallone in mano, Mistinova va in palleggio, si arresta, tiro libero di Mistinova! Partita bene Venezia e adesso 31 pari e altra palla recuperata. Palla recuperata da Morrison che poi in lay-up! Palla giù per Shepard, ancora il pallone con questo tiro da 3. Ora il pallone con ribaltamento, tiro aperto da parte di Fassina e canestro. Subito giù, ancora Chignonez, contro Shepard, Chignonez da sotto! Capobasso si è salvata, prova a correre in controverazione, bellissima, con Mistinova che segna! Passa sul blocco Trimboli, lo scarico per Chignonez, tiro! In palleggio c'è un mismatch, può attaccare Mistinova, Mistinova attacca! Grande Canestro! Ancora Mistinova in palleggio, attenzione! Mistinova cosa ha fatto? Mistinova che ha segnato! Deve ritrovare il canestro, vediamo Blanca Chignonez! Bande Chignonez! Canestro di Blanca Chignonez! Per Mistinova, Mistinova per Trimboli e ora che segna il capitano! E ora che segna il capitano! Trimboli per chiuderla! 53-47! Finisce così! È un'impresa! Un'impresa! Nel vero senso della parola della Magnolia!